E apriamo questo spazio con una curiosità, perché quando nell'impero cinese i nobili si facevano vedere e fotografare, cioè fotografare e dipingere, avevano le unghie non solo lunghissime, ma anche ricoperte di porcellana e di pietre preziose, proprio per dimostrare che erano molto ricchi e che non avevano bisogno di lavorare. Oggi noi le unghie le copriamo giusto con lo smalto e chissà se invece senza smalto le unghie possono considerarsi lo specchio della nostra salute. Bene, oggi parleremo di questo annesso, così viene definito, come mi diceva appunto la dottoressa, insieme appunto alla dottoressa Norma Cameli, che è responsabile dermatologia correttiva dell'Istituto Dermatologico San Galicano di Roma. Benvenuta al mio medico, dottoressa. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. È molto importante parlare di unghie, un po' perché noi donne spesso e volentieri forse le trattiamo anche male, pensando di trattarle invece bene, ma proprio perché sono tantissime le domande che vengono poste sulle unghie, la più comune, forse quella che viene fatta più spesso, è se le unghie si spaldano. Dobbiamo preoccuparci? Allora, le unghie si spaldano molto spesso, le unghie che si spaldano sono unghie fragili, la fragilità anguale può essere dovuta a molteplici fattori, prima di tutto l'invecchiamento, anche le unghie invecchiano. Può essere dovuta a fattori ambientali, per esempio la disidratazione della lamina ungueale, dovuta a lavarsi troppo le mani, anche se in tempo di Covid è assolutamente obbligatorio, lavarsene con detergenti troppo aggressivi o con acqua troppo calda. Poi può essere dovuta a sostanze chimiche, per esempio lavoratori che usano spesso queste sostanze, i personali sanitari, i chimici, i pittori, oppure può essere dovuta a microtraumi ripetuti, per esempio falignami, carpentieri, calzolai. Può anche essere dovuta allo smalto, perché lo smalto disidrata la lamina, quindi favorisce la fragilità, o anche a sostanze che rimuovono lo smalto. Poi può essere anche indice di malattie sistemiche. Ecco, quindi ci sono tante cose da guardare sulle unghie. Per esempio, quando invece ci sono delle macchie, macchioline marroni, oppure i famosi puntini bianchi che in tanti abbiamo, che cosa significa? C'è qualche cosa... Le macchie di vari colori possono indicare malattie sistemiche, malattie locali o anche infezioni. Le macchie bianche possono essere dovute a una degranulazione dello strato superficiale della lamina, per intenderci è lo smalto che procura questa degranulazione. Oppure possono essere dovute a microtraumi, quando noi facciamo una manicure scorretta e quindi le pellicine le spingiamo un pochino troppo. Oppure possono essere dovute anche a un fungo, una bianca superficiale. Poi ci sono anche le macchiette verdi, verde chiaro, verde scuro, che sono dovute a un battere, il pseudomonas e rugginoso. Ci sono macchiette rosse, che possono essere dovute invece a un tumore benigni, generalmente, come il tumore glomico. Ci sono macchie gialle, che sono dovute a un spessimento della lamina ungueale. Oppure possono essere dovute, gialle arancioni più che altro, a un'infestazione da funghi. Ci sono tantissime cose quindi da tenere sotto controllo attraverso le nostre unghie e sicuramente dobbiamo ricorrere per prima cosa ad uno specialista, ad un dermatologo. Ora, come si svolge una visita specialistica? Io tra l'altro vedo che lei lì ha portato anche uno strumento e noi siamo in diretta, quindi io faccio da modella in questo caso, da paziente. E le presto la mia mano per far vedere anche come funziona questo strumento. Prima di tutto la visita clinica, l'esame obiettivo è importante. Poi ci si può aiutare con questo strumento, che è un dermatoscopio. Quindi facciamo una dermoscopia dell'unghia, che si chiama onicoscopia, per vedere cose che l'occhio... Vediamoci a favore di camera. Vediamo se ci facciamo a favore di camera. Per vedere cose con due diversi tipi di luce si può fare. Oppure, se l'unghia è molto piccola, possiamo cambiare lo strumento e mettere uno strumento che può dare particolari, maggiori. Se l'unghia è molto convessa, perché è importante il dermatoscopio? Il dermatoscopio ci dà delle informazioni che non abbiamo con l'occhio nudo, perché dà un ingrandimento maggiore. E' soprattutto importante in presenza di macchie marroni o nere, perché lì è importante differenziare. Dobbiamo differenziare le macchie esogene, che può essere un ematoma o un'infezione, dalle macchie invece dovute a melaniche, che sono macchie che possono essere più serie. Dottoressa, appunto come dicevo, noi donne spesso ci prendiamo cura delle nostre unghie, forse esageriamo, facciamo qualche cosa che non dobbiamo fare. Quali sono gli errori da evitare? Allora, prima di tutto, usare in maniera continuativa lo smalto. Quindi lo smalto non deve essere usato sempre, ma deve essere, soprattutto se siamo gli smalti semipermanenti, dobbiamo alternarli a dei periodi in cui non usiamo lo smalto. Poi non dobbiamo usare l'acetone per rimuovere lo smalto normale, ma è dei solventi. Non dobbiamo fare o farci fare delle manicure troppo aggressive, perché possiamo provocare danni sia alla lamina che alla matrice ungueale, e non dobbiamo portare le unghie troppo lunghe. Ecco, questo per esempio è importantissimo. Allora, io le chiedo, visto che ci sono tante beauty routine, se ci può dare invece qualche consiglio per una coccola dedicata proprio alle unghie? Allora, prima di tutto non bisogna lavare le mani con acqua troppo calda, perché l'acqua troppo calda disidrata. Bisogna utilizzare sempre delle creme idratanti, anche le stesse che usiamo sulle mani, le possiamo mettere sulla lamina ungueale. Poi ci sono dei gel, emulsioni, lacche che possono favorire un'unghia sana, che sono a base di olio di argano, olio di jojoba, colesterolo, acidosalicilico, tantissime cose. Poi bisogna sicuramente avere un'alimentazione corretta, perché una delle cause della fragilità ungueale è proprio la carenza di certi oligoalimenti, amminoacidi, vitamine, e sempre indossare i guanti di cotone sotto i guanti di lattice. Benissimo, grazie. Allora, ai consigli preziosissimi della dottoressa Cameli, Allora, ai consigli preziosissimi della dottoressa Cameli,